Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come cambiare il nome del contatto su WhatsApp. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come cambiare il nome del contatto su WhatsApp. Ora cambiamo il nome del contatto in WhatsApp e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione WhatsApp, quindi aprila semplicemente. Once you've opened the WhatsApp application, it directs you here then and near what you're gonna do is that tap the conversation as you can see. E poi qui ragazzi, quello che farete è semplicemente toccare il profilo in alto, come potete vedere, basta toccarlo. E poi qui quello che farai qui è toccare l'icona con i tre punti nell'angolo sinistro e poi toccare modifica. Ora qui per cambiare prima il nome del contatto devi cancellare il vecchio nome e poi puoi inserire quello nuovo proprio così e puoi anche aggiungere il cognome. Quindi, dopo tutto ciò, tocca salva. Allora è tutto ragazzi, come potete vedere abbiamo già cambiato il nome del contatto in WhatsApp. Quindi, questo è il modo o i passaggi su come modificare il nome del contatto in WhatsApp. Grazie per aver guardato.